Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube, l'anima dell'arte. Mi raccomando, innanzitutto iscrivetevi al canale, per rimanere aggiornati attivate anche la campanellina e seguiteci su Instagram. Io sono Serena e oggi vi parlerò di una nuova donna. Abbiamo deciso di aprire questa nuova rubrica sulle donne dell'arte perché siamo reso conto che anche le donne contemporanee, viventi d'oggi, quelle del presente, sono molto importanti per la storia dell'arte. Oggi vi parlerò di una pettrice. Pronti? Via! Se si parla di Jenny Seville, che ho scoperto da poco, che mi ha veramente impressionato, Jenny Seville è l'artista donna vivente più pagata al mondo, tra le 5 più famose internazionalmente. Madonna, come potevo non conoscerla! Per esempio, il suo opera Propet, quindi un maestoso odio su tela del 92, era stato battuto il 5 ottobre del 2018 a Londra per 12,4 milioni di dollari. L'ho conosciuta grazie alla mostra che hanno fatto a Firenze, curata da Sergio Risaliti, in una collaborazione tra vari musei. che aveva tutto dal museo del 1900, e ognuno di questi trovava almeno un paio d'opere in relazione con opere d'arte di uomini, praticamente. Quello al museo degli innocenti ho visto questo messo in correlazione con questo dipinto, con la maternità di appunto Jenny Seville. È una donna che mi ha sorpreso subito con le sue pennellate spettacolari, i suoi occhi luminosi. Jenny Seville nasce il 7 marzo 1970 a Cambridge. È una pittrice inglese e fin da piccola aveva questa passione, quest'arte dentro di lei. Raccontava che a 8 anni sua madre ha pulito il ripostiglio, è stato il suo primo piccolo studio. Nel 1988 ha iniziato un percorso di studio presso la Glasgow School of Art in Scozia. Lì si è incontrato una sola insegnante donna. Tale mancanza di presenti femminili fu poi colmata grazie alle letture femministe che iniziò a leggere dopo una visita negli Stati Uniti. Questo avvenne verso la metà della sua vita universitaria. Jenny Seville si era giudicata a una borsa di studio per passare 6 mesi nell'università di Cincinnati. Si trova in Oio. Per Seville ha iniziato l'interesse sul funzionamento del corpo umano. Tatti trovandosi immersa in una cultura differente alla sua, iniziò a guardare con interesse questi corpi nei centri commerciali carne e pelle bianca in pantaloncini e t-shirt. Sì da questo che va presa vita poi il suo lavoro di laurea, il quale poi ne farà una mostra. Nel 1992, all'età di 22 anni, termina gli studi alla Scuola d'Arte. La sua mostra di laurea registra il tutto esaurito. Una cosa sorprendente, non è che i suoi quadri vengono appunto venduti tutti, che è una cosa già impressionante di per sé, ma è chi le ha comprati. Alcuni di questi quadri vengono comprati un importante gallerista della Satgi Gallery. Il gallerista decide di fare un contratto di un totto di questa giovane artista per dare una possibilità al talento di Jamie Seville. Grazie a questo collezionista è riuscita a raggiungere questi importanti divette. entra come membro nel gruppo di visual artists chiamato Young British Artists, dove possiamo trovare anche Damien East o Tracy Eminen. Si è trasferito a New York per un certo periodo di tempo dove lei osservava un chirurgo plastico per andare al lavoro a fare fotografie, fotografie che poi usava per fare i suoi dipinti. E grazie a questa esperienza lei, oltre a migliorare la conoscenza sul corpo umano, sulle manipolazioni estetiche che avvengono, comprendeva meglio i fattori psicologici che stanno dietro a certe scelte di cambiamento riguardo al proprio corpo. Fu con la mostra Sensazione del 97 che Seville ha mostrato alla Royal Academy of Art di Londra, sulle opere di quel momento. L'affigurazione dei corpi femminili nudi giganteschi, su sgabelli, riversi, che esibiscono in forme sensuali. Una cosa diversa dal solito, dove vengono valorizzate tutti i particolari aspetti del corpo femminile. Per questo lei ha favorito una grande notarietà. Nonostante ci siano state delle incomprensioni, dei vandalismi, eccetera, le sue opere sono uscite indenne e anzi fu riconosciuto il suo lavoro come strepitoso, la cultura potabolare britannica e la sua è una produzione fondata sul corpo, sulla carne, sulle trasformazioni, per esempio la gravidanza, l'invecchiamento, l'obesità, la violenza, ma anche l'ambiguità di genere. Quindi affronta veramente tantissimi particolari temi che riguardano il corpo umano. I ripinti sono creati da fotografie e da modelli dal vivo, i tagli di alcuni cataloghi. Di solito usa fotografie di lei, i soggetti appartengono principalmente alla tradizione classica, ritratti, volti, corpi nudi, gruppi di più figure, figure distese, coppie di amanti. Scandaglia a fondo la materia vittorica, rivelando anche la vicinanza con altri artisti tipo Freud, Lucien Freud, Cindy Sherman, una fotografa concettuale, anche artisti del passato. Un maestro che è influenzata in tutta la sua vita è stato Michelangelo Bonarrotti. Lei dice che l'ha influenzato in modi diversi, in vari momenti della sua vita, le ampie pennellate che ricordano sia la tendenza analitica del figurativo, ma pure l'estetica più istintiva dell'espressionismo americano di Pollo, il disegno monumentale di Leonardo, come ad esempio se vuoi vedere nel dipinto che ha fatto nel 2011, l'artista si raffigura incinta con due bambini al proprio fianco, dove questi bambini si contorcono in regueti, uno dei quali sembra che sia stato fatto più volte, come se avesse avuto diverse posizioni. Quest'opera ci ricorda l'opera di Leonardo appunto, chiamata Sant'Anna, quella vergine, il bambino e San Giovannino. E il Seville fa diventare questo dipinto non più una tradizione iconografica, ma una cosa realistica e viva, una cosa di tutti i giorni, una cosa che esiste nel mondo, ma di cui si parla poco. I dipinti trascinano lo spettatore nel vortice di quel groviglio di sentimenti che vanno dal dolore alla gioia e viceversa. Quindi la sua è un'arte che suscita un tormento. Una parte importante della sua produzione è data dalla parola dei ritratti. Ritratti di grande formato, sempre e quasi sempre frontali, con la testa che magari gira o che guardano verso l'alto. Sono molti di giovani di arcaica bellezza con sguardi veramente intensi. Anni Seville in un'intervista afferma, io ripingo il corpo, il corpo contemporaneo in relazione con tutti i corpi che sono esistiti prima. Non amo molto le definizioni che sono questo stile o quest'altro stile. È la ragione per cui faccio arte. Sono ciò che è nei miei dipinti. Lavoro su ciò che mi affascina, in questo caso appunto il corpo umano. La prenderò come mia muse ispiratrice. Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, mettete mi piace, condividete, commentate. Perché l'arte va condivisa. Facciamoci sentire. Vi mando un grosso bacio. Ci vediamo alla prossima.